Occorrono oltre 200.000 euro al mese per consentire a Irpini Ambiente di gestire provvisoriamente, almeno fino a fine anno, la depurazione delle aree industriali. Soldi che deve trovare l'ASI per stipulare la convenzione con la partecipata della provincia. I conti sono presto fatti, 134.000 euro per la convenzione, almeno 50.000 euro per i costi dell'energia elettrica, le attività dei laboratori tra i 15.000 e i 20.000 euro. Neanche tanto teoricamente si potrebbero recuperare anche i 30.000 euro al mese che vengono spesi oggi per far depurare le acque a Salerno, recuperando il rapporto interrotto con la Firpres di Lioni. Non dovrebbe essere difficile per il presidente Pasquale Pisano trovare le risorse, le attività di depurazione fanno incassare quasi 4 milioni l'anno, ma la storia è nota. Buona parte degli incassi serve per pagare i 12 dipendenti amministrativi dell'ASI e per il funzionamento più generale del consorzio. Così è finita in agonia ASI-DEP, potendo contare soltanto su un sostegno di 70.000 euro al mese che naturalmente non bastano a retribuire i 55 dipendenti che ciclicamente per mesi non percepiscono lo stipendio. Attualmente sono almeno 4 le mensilità arretrate, senza contare i mancati benefit previsti dal contratto. Voci accreditate dicono che in queste ore Pisano sta rifacendo i conti prima di consegnare la proposta di convenzione a Claudio Crivaro, amministratore di Irpini Ambiente, che un attimo dopo, al tavolo del prefetto Paola Spena, presenterà ai sindacati la proposta di gestione. Tutto questo dovrebbe accadere e concludersi nella giornata di venerdì in quella sede. Se tutte le caselle troveranno il loro posto, i sindacati chiederanno la sospensione del bando di gara europeo per l'affidamento della depurazione. Il ragionamento è questo. Se le risorse per la depurazione sono state trovate appostate, perché non dare continuità alla gestione pubblica oltre il temporaneo affidamento? La mediazione del prefetto è sufficiente, ma potrebbe non bastare.